Si tratta di un software, in questo caso serve per le segnalazioni per il verde pubblico. È in qualche modo un'occasione per coinvolgere la cittadinanza? Anche in questo, sicuramente è un software che consente due elementi. In primis la gestione del verde, è la parte più importante. Io ho dato prima anche dei numeri, Pescara ha dei numeri sulla gestione del verde che impressionano anche a me a volte. 55 parchi, 15.000 piante, oltre un milione di erba da sfalciare. Tutto ciò viene fatto con un servizio tecnico del verde che è costituito soltanto da altre figure e da una decina di operai del verde. Allora noi per agevolare su questo, usufruiremo questo software che rappresenta un elemento basilare nella gestione del verde. Infatti oggi abbiamo dato una prova dimostrativa concreta su quante volte verranno fatti gli interventi. Il software ti richiama l'intervento di manutenzione di un albero, dei giochi, perché poi la sicurezza assume un ruolo fondamentale. I parchi, io dico sempre, non devono essere soltanto belli, ma devono essere anche sicuri. Sicuri significa avere delle piante che non diventano da elemento di arredo un elemento di pericolo, significa avere dei giochi che gli usufruitori, in questo caso i bambini, non si facciano male. Cosa importante, esce anche la notizia che sono davvero esigue le casse comunali, di conseguenza anche per il verde pubblico c'è davvero un'esiguità di numero di operai e anche di fondi. Come si fa? Con tanta buona volontà. Con tanta buona volontà, nel senso che, innanzitutto, stiamo cercando di rilanciare ulteriormente anche i dipendenti comunali, che sono circa una decina, purtroppo anche in età avanzata, cercando anche loro di rivalorizzare le loro figure. In secondo luogo, cercando anche di fare degli interventi anche nell'esterno. I fondi sono quello che sono, cerchiamo di aiutare, di chiedere di aiuto a associazioni, cittadini. Filmeremo fra qualche settimana un protocollo con i detenuti, che rappresenta una figura che il lavoro ne fanno tanto bene, poi lo lanceremo fra qualche giorno. Quindi, con tanta buona volontà, cerchiamo di fare degli interventi. Logicamente, i cittadini devono capire, come giustamente diceva lei, che a Pescara, ad esempio, le potature non si fanno da 3-4 anni. Quindi, logicamente, per fare una potatura integrale su Pescara occorre delle cifre che ci avviciniamo a oltre mezzo milione di euro, che oggi non abbiamo. Stiamo cercando di intervenire nelle situazioni di emergenza dove c'è necessità.